That's him, kid. E' quello che ha mandato la mamma in galera? Si, anche la nonna. Rico, carcere. Come sta tuo zio? Don Soleno. Tu parli italiano? Abbastanza bene. Allora vi vorrei chiedere se è vero una leggenda metropolitana che il doppiatore invece è felicissimo anche perché credo che si guadagni abbastanza bene o no? Si. Per motivi di timidezza soprattutto si fa doppiaggio. Ho iniziato facendo le imitazioni. Per esempio Bossico. E' infatti il mio personaggio che è Danny Santos, a lui volevo dare la voce di Bossi. E cioè come veniva fuori. Però i meridionali, poverini, no? Mi precludeva una fase di pubblico comunque. Un saluto tutti assieme, Roma ladrona, la Lega non perdono. Caspita, devo dire che la mamma finalmente, Carmen, no? Carmen si sarebbe un po' spaventata con un figlio del genere in questa maniera. Hai mai provato a pensare che da quando noi due ci siamo conosciuti, tutta la mia vita è diventata un vero inferno, Michelle? Sono stato arrestato ieri sera e ho fatto arrestare mia sorella. Ho messo in pericolo tutta la mia famiglia e... Ho coinvolto anche la mia sorellina. Adesso lei ci considera solamente un branco di delinquenti. Sì, Tony, tu mi hai detto in modo chiaro che sin dall'inizio hai sempre odiato vivere nella mia ombra. Tu volevi la mia vita, il mio territorio, la mia casa e anche mia moglie. Tu desideravi tutto quello che non avresti potuto avere, ma io so che cosa succede tutte le volte che ottieni quello che vuoi. Tu non lo desideri più. No, è solo che c'erano delle cose che avrei voluto. Voluto dirti, ecco io. Sapevo che mi sarei impappinato per la commozione. Se non ti va di leggerlo, puoi anche gettarlo. Non dovevi farlo, ho voluto farlo. Io sto bene. Sì, lo so, ma io ci tenevo, ci tenevo. Sai, quando la fortuna mi aveva girato le spalle, tu sei stata l'unica ad aiutarmi. Mi hai salvato la vita, letteralmente. Adesso non cercare di farmi piangere, Santos. Vieni qui, fatti abbracciare, allora abbi cura di te. Grazie. Ci conto. Anche tu. Arrivederci, O'Neill. Buona fortuna, Danny. Anche a voi. Facendo dei progressi. Allora, dal momento che tu hai un sacco di conoscenze nell'ambiente, è così, no? Avrei certamente saputo chi li ha sparato. Magari lo sapevi prima ancora che succedesse. Non ho così tante conoscenze. Risposta sbagliata. Te l'ho detto. Non puoi prendermi in giro. Eccomi. Oh, 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 oh. Michelle. Ma che cosa? Oh, oh, oh. Il mio vestito. Oh, oh. Per un pacco. Guarda cosa hai combinato. Hai versato l'uomo spattuto sul mio bel vestito l'uomo. Oh, non metterti a sbraitare così davanti al piccolo Robby. Adesso si segue. Oh Michelle. Tu sarai l'uomo più affascinante che ci sia in tutto l'ufficio oggi. Su, dammi un cucicucicu. Ah, sì, te lo do io, i cucicucicu, se mi fai perdere la riunione che ho questa mattina. Riunione, riunione. E questo è il tuo spirito latino? Dov'è finito il fuoco che hai nelle vene? Dammelo vedere, ah? Cos'è successo alla mia camicia, Michelle? Niente. Michelle. Non penserai che sia bruciata la camicia? Ecco, c'è soltanto un forellino. Ah, un forellino. Questo? Con tutto il tempo che hai a disposizione durante il giorno, dovevi proprio metterti a stirare adesso. Soltanto un attimo prima dell'occasione più importante della mia intera vita professionale. Non ci posso. Michelle, non è tutto a posto, ci sono altre camicie. Non sei arrabbiato con me? No, non sono arrabbiato con te. Io ti amo, come amo anche Robby. Voi due per me, tesoro, siete più importanti di qualunque altra cosa al mondo. Ehm... 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 Ehm...